Quanti bei ricordi, l'auto ha segnato la vita delle famiglie italiane. All'Aerol di Emuzzi, residenza sanitaria di Lecco che ospita oltre 300 persone, sabato 14 settembre verrà inaugurata una mostra fotografica sulle auto d'epoca. La sfida è coinvolgere dei genti e familiari a stimolare la memoria. Questa iniziativa è nata da un'esigenza molto sentita in un RSA che è quella di aiutare i nostri ospiti a sentirsi bene innanzitutto. Sentirsi bene vuol dire recuperare una profonda autostima della vita vissuta e del presente. Quindi vuol dire cercare di aiutare a recuperare la memoria che nelle persone anziane e un po' per questioni anagrafiche, che altre invece perché hanno disturbi cognitivi, è una delle facoltà che per prima viene a mancare. Perché l'auto? L'auto è un mezzo che da quando è nato ha percorso la vita trasversalmente di tutte le persone. Ha visto persone non potersela permettere di colpo poterlo fare, persone che hanno dovuto rinunciare, ma in ogni caso ha percorso la strada di usi e costumi della nostra nazione. In questa giornata del 14 faremo la presentazione di questa mostra fotografica che percorre tutte queste annate e inoltre ci saranno presenti alcune auto storiche che daranno colore a questo inizio di questo evento. Avremo una vettura che tutti ricorderanno per il film di Fantozzi, avremo la bianchina berlina, poi sicuramente abbiamo una 600 di serie un po' particolare che è la 600 Savio Giungla, dopodiché avremo la classica 500L che è un po' quella vettura di casa che tutti noi italiani abbiamo usato. Insieme ai volontari nei giorni successivi gli operatori porteranno la mostra in ogni residenza della casa di riposo lecchese. Grazie a tutti.